Una giornata senza dubbio positiva, il risultato che c'eravamo previsto è stato ampiamente raggiunto, abbiamo fatto il pieno di aziende e anche il pieno di candidati, oltre 450, è una formula vincente che certamente verrà riproposta l'anno prossimo, tanti giovani ma anche tanti quarantenni, tanti cinquantenni. Questo significa che il format non si rivolge soltanto alle generazioni che si approcciano al mondo del lavoro per la prima volta, ma anche a coloro che hanno già esperienze maturate in precedenza. È un piccolo aiuto che diamo alla comunità per cercare di superare questo difficile momento che ci riguarda a tutti. Solo con la coesione di tutte le parti sociali e di tutti noi è possibile superare questo momento di difficoltà. Certamente la gran parte delle posizioni si riferisce ovviamente ai pubblici esercizi. Si avvicina la stagione turistica, è una stagione che sarà determinante per comprendere le traiettorie degli anni a venire e quindi tante posizioni si riferiscono a alberghi, comunità, ristoranti, pizzerie, bar. Ma allo stesso tempo possiamo dire che anche tante posizioni con elevate qualifiche vengono richieste. Vengono richieste figure di programmatori, figure di sviluppatori non solo di software ma anche di campagne pubblicitarie. Questo è importante perché significa che anche in un territorio periferico come il nostro vengono richieste comunque specificità e competenze di alto livello. Certamente tutti quanti dobbiamo iniziare a ragionare in termini di prospettive più lunghe. Non possiamo più accontentarci di ragionare o di vivere alla giornata. Questi ultimi anni e la situazione attuale dello scontro in Ucraina certamente ha modificato quelle che sono le nostre abitudini. Ma abbiamo la necessità imperativa di dover guardare a prospettive di lungo o medio periodo. Non possiamo più accontentarci di vivere alla giornata. Qual è l'importanza di un sistema formativo? Basilare. Guardavamo i dati da poco riguardo alla scolarizzazione dei giovani oristanesi. Non possiamo permetterci di rimanere fuori dal mondo della scuola e quindi della formazione. Oggi il mondo del lavoro necessita di personale altamente formato e qualificato a tutti i livelli.